si sta raffreddando lentamente 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 infatti io lo sposto dove il marmo è più freddo così si raffredda prima qualche menù ancora e ci siamo a presto ci vuole un po di abilità non è particolarmente difficile questo adesso è un po più spesso perché ci sono dentro le noci che sono un po grosse se c'era solo il pistacchio era bello sottile sottile il nostro toccante è pronto adesso con questo facciamo degli assaggini e questo lo facciamo a striscioline quando il marmo è un po più freddo così si raffredda subito e ce l'abbiamo già bello e pronto se volete potete assaggiare sono noci e pistacchi